Buonasera amici. Stasera vogliamo parlare di una figura da noi in realtà non molto conosciuta, si tratta di un'araba, la Beata Miriam di Gesù Crocifisso al secolo Mariam Bawardi, la quale nasce nel 1846, è il 5 gennaio, nel villaggio di Iblin, siamo nell'Alta Galilea, a circa 25 km da Nazareth, la città della Sacra Famiglia. Miriam prima di lei sa che sono nati dodici fratellini maschi, ma nessuno di loro è riuscito a sopravvivere se non per qualche settimana e queste dodici morti in famiglia fanno sì che i genitori vadano in pellegrinaggio a Betlemme per chiedere alla Madonna una grazia, chiedono che se verrà concessa la nascita di una bambina, questa porterà il nome della Vergine. Così accade che nasce Miriam e poi dopo di lei nascerà anche un altro fratellino che sopravviverà ai primi tempi, ai primi mesi della sua vita, Boulos, cioè Paolo, Paolino. Quando Miriam, a tre anni, rimane insieme al fratello orfana di entrambi i genitori, muore avanti il babbo e poi dopo pochi giorni anche la mamma per il gran dolore, per il crepacuore. Il babbo ce la fa però prima di spirare, ad affidare a San Giuseppe Miriam, a affidare a questa straordinaria paternità, la sua piccola Miriam. Come a usanza in quel tempo, in quel luogo, in quella cultura, i due orfanelli vengono affidati in adozione a degli zii, due zii diversi, per cui i bambini in realtà non si incontreranno più per tutta la vita. Miriam starà ad Alessandria da un uzzio molto facoltoso e durante l'infanzia un piccolo episodio che risulta importante, delicato, ma importante nella vita della nostra santa. Quando sta giocando con due piccoli uccellini in gabbia, nello zelo di bambina, cercando di lavarli, li lava così accuratamente a fondo che i due uccellini muoiono e nel suo dolore, nel suo senso anche di colpa e di tristezza per averli persi, sente nel cuore forte questo messaggio che si incide nella sua anima. Dice Gesù a lei, tutto passa su questa terra, dammi il tuo cuore e io rimarrò sempre tuo. Questa proposta di amore di Gesù colpisce talmente la fantasia di Miriam che fin da allora, fin ragazzina. Lei sente di essere orientata verso una vita totalmente consacrata al Signore. L'episodio fondamentale accade quando lei ha 13 anni. 13 anni sono gli anni in cui lo zio, secondo sempre la cultura del tempo, ha organizzato per lei il suo matrimonio. È stato scelto per lei quasi a sua insaputa il fidanzato. È stato scelto il giorno del matrimonio. Tutto è pronto per le nozze. Ma la notte precedente per Miriam è una notte insonne perché sente di doversi sposare con una persona che non ama e poi soprattutto ha paura di venire meno a quel voto interiore che ella ha fatto da bambina a Gesù. E così la mattina, quando è il momento in cui i parenti, i familiari aspettano l'uscita della sposa dalla camera che di solito porta il vassoio con liquori e con dolcetti per tutti i familiari, in realtà vedono arrivare Miriam che sul vassoio ha messo i suoi capelli appena rescisi. È il segno della sua scelta. Lo zio sente in questo gesto una ingratitudine incredibile. Lui che l'aveva accolta in casa e si era preso cura di lei e allora volano schiaffoni. Per tre mesi nella casa di Miriam e dei suoi genitori adottivi è davvero un inferno. Miriam vive questo con grande sottomissione, accetta anche le umiliazioni, ma poi capisce che forse è il momento davvero di lasciare la casa per il bene di tutti. E così cercando di scrivere una lettera, lei che è un alfabeta, al suo fratello, al suo fratellino, chiede aiuto ad una famiglia di amici, una famiglia musulmana, una famiglia di turchi, ai quali di fatto poi racconta anche questa incredibile vicenda del suo matrimonio non compiuto, non realizzato. Il turco, il capofamiglia, rimane scandalizzato da questa vicenda, ma la sua soluzione di fatto non è convincente più della prima, anzi Miriam si sente proporre dal turco di diventare la sua seconda moglie. Miriam ancora si impunta e dice no, non è questo il mio desiderio. La reazione di questo arabo è però assai più violenta perché prenderà la scimitarra e sgozza, taglia la gola a questa bambina, la quale crolla in mezzo ad un lago di sangue sul pavimento. Sembra morta, anzi Miriam racconterà poi che in realtà davvero ha fatto l'esperienza della morte. È una morte clinica che lei misticamente sperimenta come un distacco dell'anima, del corpo, e con l'anima vola in paradiso. E in paradiso vede la Madonna, vede tutti i santi, vede in un trono fiammeggiante la Santissima Trinità e Gesù stesso che appare a lei in sembianze umane. Ma una voce da questo luogo celestiale dice a lei è vero tu sei vergine, come dire tu sei già pronta per vivere pienamente nel paradiso, ma il tuo libro non è ancora compiuto. E così lei ritorna nella abitazione terrena del suo corpo dove misteriosamente in una grotta per almeno un mese, dirà lei, una donna misteriosa vestita da suora di un abito azzurro, che poi lei con certezza dopo tanti anni riconoscerà come la presenza della Vergine Maria, si prende cura di lei fino alla guarigione totale della sua gola tagliata. E la Madonna affida anche una profezia che poi puntualmente si compirà nella sua vita. Cioè tre passaggi essenziali. La Madonna dice a Miriam tu diventerai una suora in Francia presso le suore di San Giuseppe, poi tu sarai una figlia di Santa Teresa al Carmelo, sempre in Francia, e poi infine a Betlemme dove tu morirai. Queste tre tappe sono effettivamente le tre tappe della vita religiosa di Marianne Bourdie. È chiamata la piccola araba. Questo nome se lo conquista davvero in Francia, dove appunto seguendo questa profezia, questo destino, si ritrova avanti servendo in una famiglia a Marsiglia e poi entrando effettivamente prima dalle suore di San Giuseppe e poi dalle suore del Carmelo nella città francese di Po. È una illetterata. La piccola araba, così appunto la chiameranno, non sa leggere, non sa scrivere, fa fatica ad imparare il francese. Come in lingua araba non esiste il lei e il tu, ma soltanto il tu, e così lei è abituata a dare il tu a tutti. Lo dà al cardinale, lo dà al vescovo, lo dà al patriarca in visita in Francia. E allora, ecco, così la benevolenza delle sue consorelle così la definisce. Tu sei la piccola araba, per la sua piccolezza, per la sua povertà anche culturale. Ma in realtà lei aveva un altro nome personale con cui amava definirsi. Dice, voi mi chiamate la piccola araba, in realtà io sento di essere un piccolo nulla, una nullità. In questa nullità estrema della sua poverissima umanità, invece, Dio dona a lei abbondantissime grazie. E nella storia della cristianità questa figura è davvero un caso eccezionale, perché in lei si concentrano tutti i fenomeni mistici che fanno parte della letteratura mistica cristiana. E così la piccola araba riceve le stimmate, stimmate che si formano il mercoledì di ogni settimana come piccole vesciche di sangue sulle sue mani, sui suoi piedi. Poi il giovedì scoppiano, scoppiano di sangue e con un grande dolore che per il giovedì e tutto il venerdì associano Miriam alla passione di Gesù. E poi, come misteriosamente sono arrivate, il venerdì sera misteriosamente se ne vanno. Un altro tipico dono di Miriam Boardy è anche il fenomeno della levitazione. Una levitazione eccezionale, vistosa. Ci sono almeno sei episodi che le sue consorelle possono testimoniare, in cui l'hanno vista salire contro la legge di gravità fino in punta ad un grande tiglio davanti al monastero di Po. Soltanto l'obbedienza alla madre superiore permetteva che lei potesse scendere. Stava sopra questo tiglio, appoggiata lievemente sulle foglioline, i rami più alti del tiglio e poi, quasi dolcemente, carezzando la chioma del grande tiglio, scendeva fino a terra. E così ancora il dono dell'ubiquità, essere presente in due luoghi contemporaneamente, la conoscenza di cose particolari come quando, camminando lungo regioni apparentemente deserte della Terra Santa, sente di essere sopra alla città evangelica di Emmaus, il luogo dove Gesù rimase insieme ai due discepoli a cena durante uno degli episodi della sua apparizione di risorto. E lì, anche se apparentemente non c'era niente, dopo alcuni anni gli archeologi hanno di fatto trovato i resti di una grande basilica costantiniana che appunto testimoniava che questo luogo era in passato un luogo importante per i cristiani. Tanti altri fenomeni mistici davvero ci invitano a approfondire la storia di questa grande figura del mondo arabo, della Terra Santa. La sua vita finisce dopo aver dato vita con un grande lavoro al Carmelo di Betlemme, dove questa fondazione viene eretta sotto la sua guida proprio sul colle di Davide, dove Davide Pastore ricevette l'unzione di Samuele. Muore nel 1878, ad appena 33 anni, l'età di Gesù, l'età del suo sposo. Dopo un banale incidente in giardino cade, si frattura un braccio e in pochi giorni la cancrena se la porta via. Voglio da questa figura lasciare tre messaggi, tre messaggi che possono essere importanti per noi. Senz'altro questa figura nella sua terra è tutt'oggi una figura che ha fatto nascere una forte devozione sia nei cristiani che nei musulmani. A dire che la vera santità di vita di fatto non ha divisioni, la santità di vita viene riconosciuta. Oggi cristiani e musulmani guardano alla piccola araba come ad una figura in cui è possibile incontrarsi. Un secondo messaggio forte arriva dalla sproporzione fra la sua povertà, il suo essere analfabeta e tutti i doni incredibili di cui è ricolmata dal Signore. sentiamo in lei incarnate quelle parole di Gesù che dice Beato Padre, ti benedico Padre perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. E poi il terzo e ultimo messaggio è legato alla sua grande devozione allo Spirito Santo. In una delle sue numerosissime estasi Gesù le chiede di convincere i sacerdoti a celebrare una volta al mese una messa votiva allo Spirito Santo, in quei tempi senz'altro lo Spirito Santo era ancora più sconosciuto di quanto diciamolo possa essere anche oggi. Ecco ma vogliamo davvero anche fare nostre queste parole della Beata Miriam e questo invito che Gesù fa a coltivare insieme a lei una vera autentica devozione allo Spirito Santo. Possa la piccola Araba, il piccolo Nulla, questa grande figura di santità che abbiamo in cielo intercedere su di noi, intercedere in particolare su tutte le grandi famiglie abramitiche chiedendo il dono della pace per i cristiani, per i musulmani, per gli ebrei. Buonasera a tutti e arrivederci alla prossima settimana.